L'inverno ha presentato il suo volto bianco anche alla costa. Ieri è arrivata la perturbazione annunciata con la neve che per la prima volta della stagione si è depositata anche su Pesaro e Fano, oltre ad imbiancare le aree interne di una coltre di 10 centimetri. Cifre superate sulle cime di Nerone, Catria e Carpegna. Tante le immagini e i video che voi telespettatori di Rossini TV avete inviato alla redazione per documentare il fascino della coltre bianca in una domenica in cui l'ondata di maltempo ha circoscritto le criticità a pochi disagi di auto finite fuori strada con i vigili del fuoco chiamati a 17 interventi nella provincia di Pesaro Urbino. La squadra di Cagli è ad esempio entrata in azione nel territorio di Piobbico nei pressi del Monte Nerone per soccorrere e far ripartire auto bloccate dall'intensa nevicata che avevano congestionato un incolonamento di macchine. A Pesaro ci si è risvegliati con un lunedì di rialzo delle temperature e pioggia notturna che ha cancellato gran parte delle tracce della neve. Più problematica è la situazione all'interno dove oggi non hanno riaperto le scuole di Urbino, Pergola, Frontone, Serra Sant'Abbondio e San Lorenzo in campo per altrettante ordinanze comunali. Ora sulla costa si attende una settimana di ridotte precipitazioni e temperature stazionare fra gli 8 e i 2 gradi. Annunciata intanto per giovedì la riapertura degli impianti di risalita del Monte Nerone già aperti da giorni quelli dell'eremo Monte Carpegna. Sul Catria invece è rimasto chiuso impianto e rifugio Cotaline per diversi casi di contagio al Covid nello staff.